Domani sei a che ora? Sei 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 sei? Eccolo qua E' una strada lucillata Non è Dezu Ma Elisa va in camera E questi? Ah ok Però mi sa che vogliono fare che li apri alla porta E anche questi sono i banchi Abbiamo cercato degli scaturoni grandi come loro Non li abbiamo trovati Buon tutto il mio amore No 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 No